Quanto peserà il voto degli elettori che ancora si schierano tra gli indecisi? È una massa che oscillerebbe oggi intorno al 30% degli aventi diritto. Le perquisizioni a casa e nell'ufficio nella sede della regione Piemonte indagato per corruzione si dimette l'assessore leghista allo sviluppo Massimo Giordano, sotto inchiesta anche l'ex capo della segreteria politica del governatore Cota. L'iniziativa senza precedenti delle settimanale Famiglia Cristiana che ha chiesto ai suoi elettori di esprimersi sulla partecipazione al prossimo conclave del cardinale americano Maoni accusato di avere coperto i casi di pedofilia in California. La decisione della Nestlé di ritirare tortelline e ravioli buitoni in tutta Italia per la presenza di carnequina oltre a quella bovina rischia di avere conseguenze negative sull'immagine dell'Italia e dei suoi prodotti alimentari. Lo scandalo a Palti aveva zerato il vecchio gruppo dirigente ma poco sembra cambiato all'Enav, società del gruppo Finmeccanica almeno a giudicare dall'andamento delle nuove assunzioni. 7.000 domande di lavoro, solo 30 ammessi, tra loro molti figli degli attuali dirigenti. Il Consiglio di amministrazione Telecom ha deciso di trattare la vendita della Sette in esclusiva con Urbano Cairo, imprenditore nel campo dell'editoria, presidente del Torino e concessionario della pubblicità della nostra emittente. Buon poveriggio a tutti voi da Tg La Sette Cronaca. Meno 5 giorni, dunque sono gli ultimi giorni di campagna elettorale. Come sapete non possiamo rendere noti i sondaggi sulle intenzioni di voto ma c'è un dato molto importante di cui non possiamo non parlare quello degli indecisi, di coloro insomma che non sanno ancora a chi dare il voto a quale partito oppure a quale coalizione ed è una fetta, dicevamo, molto importante, una fetta consistente circa il 30% degli elettori, dei possibili elettori pensate un italiano su tre ancora non sa chi votare eppure gli indecisi rappresentano l'ago della bilancia e quindi spetta ai leader convincerli ad andare al voto. Vado o non vado, annullo o voto, a 5 giorni dalle elezioni l'esito dipenderà dalla capacità di ciascun leader di convincere il popolo degli indecisi ad andare ai seggi. Il dato emerge chiaro dalla ricerca di Renato Mannheimer pubblicata questa mattina dal Corriere della Sera. Sono ancora 5 milioni una forza che può spostare gli equilibri in un senso o nell'altro. Far vincere chi è in testa, consentire la rimonta a chi insegue o anche dare uno slancio significativo a chi vuole diventare l'ago della bilancia. Rendere pubblici i risultati dei sondaggi è vietatissimo da più di una settimana perché, come si sa, è entrato in vigore il silenziatore previsto dalla legge. Ma il dato degli indecisi può essere diffuso e commentato ed è forse a questo punto il più rilevante. Sono diminuiti, racconta Mannheimer, erano il 43,9 a novembre, sono arrivati addirittura al 51,5 a dicembre, sono calati al 27,7 nell'ultimo rilevamento di questi giorni. Un calo sensibile che però non ridimensiona la portata del fenomeno. La scelta di chi ancora non sa cosa fare sarà decisiva. Se si considera il comportamento degli indecisi negli ultimi due appuntamenti elettorali nazionali si vede che, nelle politiche del 2008, ha deciso di votare nell'ultima settimana il 12,4%. Si è convinto nel giorno stesso il 7,8%, un totale di quasi il 20%. Ultime ore, insomma, decisive. Alle europee del 2009 gli indecisi che si convincono all'ultimo minuto sono anche di più. Il 13,9 negli ultimi sette giorni, il 13,4 nel giorno stesso del voto. Siamo al 27 abbondante. Senza insistere con i numeri. Ci vuole poco per capire che ogni intervento in televisione, ogni comizio, di più, ogni parola, può risultare determinante. Questo spiega le promesse che sbucano da ogni parte. Tasse, lavoro, sanità, giustizia, istruzione, ma anche riforme costituzionali. C'è chi punta su certe categorie, chi sugli arrabbiati. Strategie, pensate, da esperti della comunicazione. Il patto con gli italiani è stata un'idea di Luigi Crespi, spin doctor appena liquidato dal sindaco Alemanno. La comunicazione di Matteo Renzi alle primarie l'ha gestita Giorgio Gori, ora in politica ma con un passato da produttore televisivo. Grillo non si muove se prima non ha sentito Gian Roberto Casaleggio, il guru del Movimento 5 Stelle. Tutti i leader hanno il loro esperto di fiducia. Stefano Di Traglia e l'uomo di Bersani, Monti, che è stato aiutato in questa campagna anche dall'americano Axelrod, braccio destro di Obama, si è affidato a Mario Secchi, ex direttore del Tempo, ora nelle sue liste. I toni aggressivi di Berlusconi sono frutto della consulenza di Renato Brunetta. In Sicilia alle amministrative dello scorso autunno sono andati a votare meno del 50% degli aventi diritto, un dato clamoroso che spiega anche il successo del Movimento 5 Stelle, diventato primo partito della regione. I partiti tradizionali sono stati battuti anche perché non sono riusciti a convincere, appunto, il popolo degli indecisi. La sfida si ripete su scala nazionale con una incognita supplementare, la neve che potrebbe influenzare la corsa al voto, soprattutto nelle regioni del nord. C'è una inchiesta della procura di Novara che scuote la regione Piemonte, che ha portato oggi alle dimissioni dell'assessore regionale leghista allo sviluppo Massimo Giordano. Insieme a Giordano è stato anche indagato un altro uomo vicino a Cota, che è il presidente della regione Piemonte, Giuseppe Cortese, ex capo della sua segreteria e ora è membro della regione per l'Expo 2015. È un'indagine piuttosto complicata, i fatti risalgono a quando Giordano era sindaco di Novara. Oltre alla nascita del nuovo giornale Nord-Ovest, al vaglio degli inquirenti, secondo quanto si è preso, è una inchiesta di poche ore fa, ci sarebbe anche una vecenda legata all'utilizzo dei fondi pubblici per un albergo di Orta. E ci sono decine e decine di persone indagate. Si è dimesso stamattina mentre i finanzieri perquisivano la sua casa a Novara e il suo ufficio in regione a Torino. Massimo Giordano, assessore allo sviluppo economico leghista, fedelissimo del presidente della regione Roberto Cota, è stato anche sindaco di Novara fino al 2010. E proprio dalla procura di quella città nasce questa inchiesta. Insieme a Giordano è indagato anche un altro uomo vicino al presidente, Giuseppe Cortese, ex capo della sua segreteria politica e ora membro rappresentante della regione per l'Expo 2015. Un'indagine su cui c'è ancora il massimo riservo da parte degli inquirenti. Solo indiscrezioni al momento, i due sarebbero accusati di concussione e corruzione. E lo stesso Giordano a dichiarare questa mattina che l'inchiesta riguarderebbe fatti del 2006 quando era sindaco di Novara per la Lega Nord. La vicenda, quella della mancata chiusura di un locale, il bar Coccia, nel salotto buono della città, episodio per il quale sulle carte risulterebbe anche la corruzione di un funzionario comunale. Altre indiscrezioni parlano di un'attenzione della Guardia di Finanza sui finanziamenti erogati dalla regione Piemonte e i poli di innovazione dal 2010 ad oggi. Nell'inchiesta della procura di Novara sono finite una decina tra professionisti e imprenditori, tra loro anche il portavoce di Giordano Isabella Roldi, moglie di Cortese. Sono una persona per bene che vadano avanti gli altri, ha detto Giordano, prima di restituire il mandato a cota. Un'inchiesta che investe la regione Piemonte in un momento delicato, a un passo dalle elezioni politiche e dopo mesi di tensione per le indagini della Guardia di Finanza sui rimborsi elettorali dei consiglieri. L'opposizione chiede da settimane, lo ha ripetuto oggi, l'azzeramento della Giunta. Parliamo di un'altra inchiesta. Lo scandalo delle tangenti per gli appalti Finmeccanica aveva, diciamo così, decapitato i vecchi dirigenti dell'ENAV, ma poco sembra essere cambiato nel gruppo, almeno a giudicare dalle nuove assunzioni. Tra i 50 assunti per fare i controllori di volo per 40 in 40 aeroporti italiani, ci sono molti figli, amici e parenti degli attuali dirigenti. Tutto è partito da una lettera anonima, di cui abbiamo dato conto anche nel telegiornale delle 20 di ieri. Adesso inENAV c'è molta agitazione e si cerca di capire chi possa avere scritto e inviato questa lettera. Quando i lavori dei padri ricadono sui figli, accade spesso, perlomeno in Italia, accade anche inENAV, l'ente nazionale di assistenza al volo, dove gli eredi di diversi dirigenti di vertice sono appena stati assunti per lavorare sulle torri di controllo dei 40 aeroporti civili italiani. Un incarico delicato e ben retribuito per seguire da esperti le tracce colorate delle rotte degli aerei si arrivano a prendere anche 5.000 euro al mese. Una lettera anonima inviata ad ENAV, al ministro dell'economia Grilli, al suo capo di gabinetto fortunato e al direttore generale parlato, denuncia tra le new entry la presenza del secondo genito dell'amministratore unico dell'ente, una sorta di commissario, Massimo Garbini, ex controllore di volo scelto dal governo Monti dopo gli arresti e gli avvisi di garanzia, piovuti 15 mesi fa su ENAV e sul suo principale fornitore, Selex, azienda di film meccanica. Assieme al 24enne Andrea Garbini, il cui fratello maggiore Simone fa il controllore di volo da tempo, nella lista acclusa alla lettera in cui si scrive mettete fine per favore a questo schifo o ricorreremo alla procura, ecco i nomi di due suoi compagni di scuola, dei figli di quattro importanti dirigenti ENAV, di una parente stretta del direttore dell'Academy di Forlì. Il figlio del responsabile Odit di ENAV sta entrando con la qualifica di esperto di assistenza al volo, mentre il figlio del direttore generale Bellizzi è diventato controllore di volo nel 2011. I ragazzi che arrivano in azienda in queste settimane hanno frequentato per un anno la scuola di formazione di Forlì, un'accademia accessibile a pochi. Ad ogni bando di selezione ENAV riceve tra le 6 e le 7 mila domande, ma solo una cinquantina di giovani sono ammessi a frequentare il corso della durata di un anno. Requisiti indispensabili, il diploma è un'età non superiore ai 28 anni. Al termine delle lezioni un esame teorico e pratico gestito da una commissione interna premia circa 30 ragazzi che vengono assunti dopo aver superato una visita medica presso la direzione sanitaria della rete ferroviaria italiana. E non, chissà perché, presso le varie strutture dell'aeronautica militare che esaminano da sempre le condizioni psicofisiche dei controllori di volo e dei piloti degli aeroporti militari. Nessuno comunque intende mettere in dubbio le qualità dei neoassunti, ragazzi che avrebbero certo superato il corso anche senza portare cognomi di peso. Dispiace dunque venire a sapere che dopo il servizio andato in onda ieri sera nel Tg delle 20, oggi nel Palazzo Romano di Via Salaria, che è sede di Enav, le energie di tanti siano investite nel tentare di identificare chi ci ha fatto avere quei nomi. E adesso vi parliamo di una iniziativa senza precedenti del settimanale cattolico Famiglia Cristiana. Il caso è quello del cardinale Roger Maoni coinvolto nello scandalo pedofilia che ha travolto la sua diocesi, quella di Los Angeles. Maoni avrebbe insabbiato almeno 129 casi di abusi su minori. La domanda è questa. Può un cardinale partecipare al conclave e quindi eleggere il nuovo Papa? Questa è la risposta degli elettori del settimanale. Non c'è perdono, Maoni deve restare a casa, in casa. Dovrebbe essere benedetto sedicesimo in persona a porre il veto sulla sua partecipazione al conclave. Assolutamente no, è un cardinale per modo di dire. Non ha funzioni pubbliche. Perché dovrebbe eleggere il nuovo Papa? Sono molti i cattolici che rispondono al sondaggio lanciato dalla versione online di Famiglia Cristiana. Maoni, sì o no al conclave? Dite come la pensate. Secondo voi il contestato cardinale di Los Angeles dovrebbe rinunciare al conclave? Per lo più è un coro di no, di voci indignate. Un cardinale accusato di avere coperto preti pedofili non può entrare nella Cappella Sistina e votare per l'elezione del nuovo Papa. Risposte di pancia e di cuore. Ma il settimanale cattolico cerca di guidare i suoi elettori nei meandri della dolorosa vicenda della pedofilia, ricordandola con un dossier che si apre con un virgolettato del Washington Post che di Mahoni scrive. È fortunato a non essere in prigione e ricorda come il suo successore, Monsignore José Horacio Gomez, lo ha rimosso da qualsiasi incarico amministrativo o pubblico. Gomez lo ha riconosciuto responsabile di avere insabbiato 129 casi di abusi su minori commessi da preti, dei 500 avvenuti negli anni 80 che portarono la diocesi più grande degli Stati Uniti a patteggiare una pena di 660 milioni di dollari per risarcire le vittime. Su uno di questi episodi, un sacerdote messicano accusato di aver abusato di 26 bambini, Mahoni dovrà deporre in procura il 23 febbraio, appena prima di volare su Roma, ma, scrive amaramente il periodico italiano, parteciperà regolarmente al conclave che eleggerà il nostro pontefice. Appare sensato che il cardinale Mahoni si metta una mano sulla coscienza e rinunce a partecipare al conclave. Ci sono anche voci che escono dal coro dei no. Certo che sì, e mi meraviglio che un giornale cattolico ponga questo problema. Proprio voi che siete nati all'interno della spiritualità paolina, o iniziamo a mettere in dubbio l'azione dello spirito santo all'interno del conclave? Famiglia Cristiana riporta per intero e tradotta in italiano la lettera che il primo febbraio di quest'anno Mahoni scrisse a Gomez. Ho chiesto scusa per gli errori e mi sono impegnato per far sì che l'arcidiocesi fosse più attenta a queste problematiche e sicura per tutti. Chi vuole dunque che Mahoni faccia un passo indietro? Famiglia Cristiana ripercorre la riabilitazione di Mahoni parlando di parziale marcia indietro del reverendo Gomez, ma la maggioranza dei lettori pensa che la marcia indietro la debba ingranare il cardinale sotto accusa. E fa scalpore la vicenda della carne di cavallo venduta come carne di manzo. Il caso è scoppiato in Gran Bretagna dove carne equina è stata trovata prima negli hamburger e poi nelle lasagne. Il caso si è allargato anche agli altri paesi dell'Europa fino ad arrivare all'Italia. La Nestlé ha deciso così di ritirare alcuni prodotti sia dagli scaffali italiani che da quelli spagnoli. Si tratta dei ravioli di brasato, buitoni e di tortelli di carne. Siamo di fronte ad un caso di frode alimentare. Non ci dovrebbero essere pericoli per la sicurezza, ma sotto accusa naturalmente c'è l'intera filiera alimentare. Anche l'Italia nel carosello dei controlli e degli allarmi. Lo scandalo della carne di cavallo venduta come manzo, l'Orsgate, come è stato ribattezzato dai media inglesi, è arrivato anche in Italia portandosi dietro polemiche e conseguenze. Il campanello di allarma è scattato ieri quando la Nestlé, uno dei più grandi gruppi alimentari del mondo, si ha autodenunciato. L'azienda svizzera ha effettuato controlli e ha scoperto percentuali di cavallo in due prodotti della buitoni, percentuali tra l'1 e il 4%. Ravioli al brasato e tortellini alla carne. Eccoli, questa mattina li abbiamo trovati in un grande supermercato della capitale, ma stanno per sparire. Ritirati dal commercio. La società rassicura nessun pericolo per la salute e parla di dichiarazione fraudolenta da parte di uno dei fornitori, appunto la contraffazione alimentare. Com'è stato possibile che non solo gli italiani ma i consumatori di mezza Europa siano stati ingannati e poi chi garantisce ora che la carne di cavallo provenga da una filiera controllata? I cavalli si dividono in due categorie, destinati all'alimentazione o non destinati all'alimentazione. E qui bisogna stare molto attenti perché generalmente i cavalli da corsa non sono destinati all'alimentazione e quindi non dovrebbero entrare nel circuito. I cavalli da corsa possono essere trattati anche con farmaci che non sono permessi per l'alimentazione, tipo il butte. Nei giorni scorsi era a corsa ai ripari per tranquillizzare i cittadini, dando il via libera a una raffica di test su prodotti a base di carne e di manzo per verificarne la composizione e l'eventuale presenza del fenilbutazone, il potente antidolorifico usato sui cavalli da corsa, dannoso per l'uomo. L'Italia, primo consumatore di cavallo in Europa, aveva votato contro, sostenendo che le spese dei nuovi e costosi test della UE spettino agli esportatori. I NAS, però, visto l'allarta europeo, sono già a lavoro, prelevano campioni o meglio, tortellini e lasagne. Li consegnano ai ricercatori dell'Istituto Zooprofilattico del Piemonte che, proprio come succede nel telefilm di CSI, cercano il DNA di 14 tipi di animali. Già nei giorni scorsi la procura di Torino, in seguito allo scandalo inglese, aveva avviato un'indagine esplorativa senza indagati e senza ipotesi di reato. I primi risultati sarebbero negativi, nessuna traccia di carne di cavallo. Non bastano i controlli fatti a scandalo scoppiato, accusano però le associazioni dei consumatori, ci vogliono controlli lungo, tutta la filiera, prima che il prodotto arrivi sugli scaffali. In effetti basta dare un occhio al tortuoso percorso fatto dalla carne di cavallo ricostruito dal quotidiano francese Le Monde. La carne è transitata dalla Romania in Lussemburgo, attraverso l'Olanda e Cipro. È stata lavorata poi dall'azienda francese Spanghero, che l'ha venduta alla società Tavola del gruppo Comigel, specializzata nella preparazione di lasagne e piatti pronti surgelati per decine di aziende, tra cui la Findus inglese. Comigel ha distribuito lasagne in 19 paesi con marchi e denominazioni diverse. Ora, sotto accusa ci sono lasagne in Inghilterra, tortellini nel nord Europa, addirittura la pizza in Austria sì, perché da quelle parti la farciscono con carne macinata. Tutti i prodotti fiori all'occhiello del made in Italy che ora vengono associati allo scandalo della carne di cavallo. Tutto in una notte, possiamo riassumere così la vicenda della vendita della nostra emittente la 7. Ieri pomeriggio si è riunito il Consiglio di amministrazione di Telecom, ha deciso una trattativa in esclusiva con Urbano Cairo, che adesso avrà due settimane di tempo per presentare l'offerta definitiva per il CDA di Telecom. L'offerta dell'imprenditore Diego della Valle era arrivata troppo tardi e rispetto a quella del fondo Clessidra, quella di Cairo era da preferire. La Cairo Communication tra l'altro è da qualche anno concessionaria della 7, concessionaria pubblicitaria della 7. Allora vediamo com'è andata. Tutto in una notte, l'attesa, il freddo, le voci, Milano, Piazza Affari, sede della Telecom ma anche della borsa chiusa, silenziosa, che sta dall'altra parte. Guarda, è successo lassù in una sala da grandi occasioni, 15 consiglieri intorno a un tavolo che raccoglie i capitali forti, fortissimi, da Mediobanca in giù. Portano i panini, commento scontato, allora si va per le lunghe, invece nemmeno tanto, tre ore bastano per tagliare il cordone ombelicale, la 7, la TV che ora guardate da una parte e la grande madre Telecom dei telefoni dall'altra, d'ora in poi divise. Alle 9 e mezzo della sera è già finita, scendono i primi consiglieri, muto Minucci, vicepresidente, sali in auto, cordiale no comment e via. Avete un po' discusso? Mutissimo Pagliaro, presidente di Mediobanca, svicola, dicono che il salotto sulla decisione si sia spaccato, qualcuno voleva il rinvio e ha perso. Impossibile lo confermi proprio lui e comunque tra quelli che sul punto ha vinto. Eravate d'accordo? Potete dirci com'è andata? Un processo completo, una buona istruttoria. Elio Catania almeno dice qualcosa, criptico lì per lì, ma il sottinteso è che la partita si è chiusa. Pochi secondi, infatti, e c'è il nome, Urbano Cairo. Telecom avvia con lui una trattativa in esclusiva, la sua è l'offerta migliore. Due settimane per il closing, per concludere, come si dice in gergo. Finisce onestamente, nel modo più naturale. Cairo di La Sette è già concessionario della pubblicità, non deve arrivare da chissà dove, c'è già, conosce la macchina dei ricavi e oggi in un'intervista assicura che la linea editoriale non è in discussione, non si danno mai via i giocatori migliori, metafora inevitabile, lui che è il padron del toro. E non c'entra con quello del Milan, Berlusconi che lo licenziò anni e anni fa, dice. La rete perde 100 milioni di euro all'anno, sì, servirà a rientrare dalle perdite, certo, ma volarizzare news e approfondimento è obiettivo, che non si discute. Quelle segrete stanze lassù, che cosa è successo? Sembrava che le sidra, e non è stato, sembrava Diego della Valle, ma è piombato in campo fuori tempo, massimo, dicono i consiglieri, ricordando che ha avuto mesi per formalizzare, doveva pensarci prima, e che i mercati abbiano spinto il titolo Telecom Italia Media ieri e oggi ritornino al punto di partenza, adesso conta zero. A sei giorni dalle elezioni l'ipotesi del rinvio sembrava effettivamente accreditata, e lo è stata fino all'ultimo, la cronaca dei pensieri e delle riflessioni la concede poi Tarak Ben Ammar. Le aziende quotate in borsa hanno migliaia e migliaia di investitori stranieri, devono gestire interessi di tutti gli investitori e non soltanto interessi italiani, politici di una parte o dall'altra. È la dimostrazione che la politica non entra nel Consiglio di Telecom Italia. Che le pressioni mediatiche che avete visto di non prendere una decisione fine alle elezioni, il messaggio è che l'abbiamo presa, ognuno con la sua coscienza, nell'interesso dell'azienda. Parla sempre un sacco Ben Ammar, ma sa anche un sacco di cose. In Italia sapete quanta gente è interessata a fare il Presidente della Repubblica, ironizza, attaccando in filigrana le ambizioni di conquista di De La Valle. La spuntata chi è andato al sodo alla fine, puntando a fare il Presidente qui, alla 7 fa capire. Avrà una dote, dicono, meno di 100 milioni, necessari per risanare e rilanciare. Non vuole le antenne, che restano a Telecom, non vuole MTV. Tutto in una notte, le storie ogni tanto ricominciano così. C'è stata una rapina spettacolare sulla pista dell'aeroporto di Bruxelles. Un furgone portavalori è stato preso d'assalto da otto rapinatori che si sono portati via un carico di diamanti grezzi, pensate dal valore stimato di 50 milioni di dollari, circa 38 mila euro, milioni di euro. Il colpo è avvenuto ieri sera e non è stato sparato nemmeno un colpo di pistola, infatti non ci sono feriti. Ora sappiamo che l'ora X erano le 19.47 di ieri sera sulla pista dell'aeroporto di Zaventen. Lo scalo di Bruxelles, nel mirino un gruzzolo da 10 chili di diamanti grezzi da far tagliare all'estero, oltre a pietre preziose e lingotti d'oro. Nessuno si accorge di nulla, tutto si svolge in modo rapidissimo senza alterare di un millimetro la consueta routine dell'aeroporto. Gli investigatori stanno cercando ora di ricostruire i fatti in quella manciata di secondi in cui il commando sembra fosse composto da otto persone entrato in azione con gesti perfettamente coordinati di chi ha provato mille volte per mesi. Un colpo che potrebbe passare alla storia come quello del treno Glasgow-Londra del 63 che all'epoca fruttò ai rapinatori, ai valori di oggi, 60 milioni di euro. Esattamente 50 anni dopo il gruppo aspetta sulla pista un furgone portavalori. Tutto sembra normale nella penombra nebbiosa che ricopre l'aeroporto, ma gli otto uomini d'oro sono in agguato a bordo di due veicoli che quando è giunto il momento sfondano le recinzioni intorno alla pista. Sono muniti di armi automatiche e visori laser. Sanno che dentro quel furgone della Brink c'è un tesoro. È un carico in arrivo da Anversa, la capitale mondiale dei diamanti. È un carico di pietre preziose destinato ad essere imbarcato su un volo Swiss in partenza per Zurigo. Il furgone dei diamanti viene tamponato, gli uomini scendono e senza sparare un solo colpo si fanno consegnare dagli autisti il super bottino. Tre minuti, appena 180 secondi, per mettere a segno un colpo da 50 milioni di dollari e sparire a tutta velocità verso la grande rete autostradale che circonda l'aeroporto. Nessuno sa in quale direzione una delle vetture verrà ritrovata bruciata a pochi chilometri dallo scalo. Non si conoscono nemmeno i nomi dei pornitori e degli acquirenti di quel tesoro. E adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Siamo in chiusura ma c'è un aggiornamento sulla notizia di cui vi abbiamo parlato, quella dell'inchiesta della Procura di Novara per corruzione che ha portato questa mattina alle dimissioni dell'assessore leghista allo sviluppo della Regione Piemonte Massimo Giordano. Ebbene, è arrivata una nota del Presidente della Regione Cota, ho sentito l'assessore Giordano che è scosso per quanto accaduto, mi ha confermato la sua estranetà ai fatti, confermo la fiducia in lui e respingo le dimissioni. Queste sono le parole del Presidente della Regione Piemonte. Questa era l'ultima notizia di Tg la 7 e Crona, che vi ricordo come sempre il nostro sito tgla7.it, l'edizione delle 20 del telegiornale e poi dopo 8 e mezzo bersaglio mobile con il direttore Enrico Mentana. Grazie per averci seguito, noi ci vediamo domani come sempre alle 14. Buon pomeriggio. Grazie per averci seguito.